Non capiamo perché fare tutte le cose così in segreto all'oscuro di tutti i cittadini facendo una mozione del resto della dubbia legittimità presentata dalla sera alla mattina con un'urgenza che non si capisce qual è, quale sarà l'urgenza di fare una mozione oggi. E tra l'altro in grande contraddizione con la commissione che è stata convocata che deve decidere sul referendum consultivo. Nel mentre questa commissione sta facendo i suoi lavori di studio sulla verifica dell'ammissione dell'acquisito referendario arriva una mozione che dice il contrario. Quindi di cattivo gusto verso tutti i componenti illustri della commissione che sta valutando il referendum è assolutamente, dal mio punto di vista, illegittima perché contraria a quello che sta l'amministrazione facendo dal punto di vista amministrativo. Quindi noi pensiamo che il sindaco dovrebbe ritirarla per fare una cosa giusta e onesta. Nel caso il referendum fosse giudicato ammissibile due cose sarebbero in conflitto. Sono in completa contraddizione una con l'altra perché da una parte la commissione potrebbe dire si può fare referendum e dall'altra l'amministrazione comunale, il sindaco e i consiglieri comunali votano una cosa per dire non lo facciamo. È chiaro la contraddizione. E questo qui oltretutto si aggiunge a un fatto specifico. Il sindaco durante la campagna elettorale con i suoi video ha dichiarato che non si sarebbe mai realizzato un digestore anaerobico a bell'occhio e falcineto. L'ha detto in campagna elettorale per prendere i voti, l'ha portato fino alla fine, adesso viene a dire ai cittadini che invece si farà un digestore anaerobico. Per questo era importante il referendum. Perché i cittadini devono dire la loro rispetto alla posizione che ha avuto prima della campagna elettorale del sindaco e che oggi è contraria e vuole il digestore anaerobico a bell'occhio in buona sostanza perché non ci prendiamo in giro anche su questo. La decisione l'hanno già presa, è chiaro. La presentazione di urgenza la conferma.